famiglia donofrio hai appena vinto nella categoria amatore il tuo senior italian open vogliamo sapere tutto com'è andata in primi specifico che non sono senior ok però è stata un'emozione è stata un'esperienza stupenda incredibile anche un po strana perché quando arrivi sul t con questi campioni e tu sei la che un attimo anche in panico con voi con le telecamere un po il pubblico il vento a raffiche da 50 km poi inizia a fare x prendere le acque quindi non è stato proprio tutto facile però devo dire stupendo e soprattutto grazie ai professionisti che hanno giocato con me perché mi hanno aiutato ogni singolo colpo oggi ero con canonica e kingston che tra l'altro erano i leader e ieri ero con reale e martin miguel angel e tutti mi hanno proprio sostenuta come se fossi non so una una loro creatura non lo so è stato bellissimo veramente ci puoi raccontare la formula e magari convincere qualcuno a venire a fare sì no io vorrei dire a tutti di venire perché è eccezionale c'è praticamente la formula penso di averla capita si gioca un singolo fondamentalmente di due giorni e si guarda lo score stable for quindi questo aiuta perché oggi soprattutto in questo vento aiutava tanto e ha il tuo score però i professionisti ti possono aiutare quindi la cosa bella è un po questo perché si impara tantissimo e poi è emozionante giocare magari con questi nomi che io nella mia ignoranza non so magari chi siano poi vado su google su wikipedia e scoprono che hanno giocato rider cup vinto open su open quindi è una cosa speciale lo consiglio veramente a tutti i direttanti tutti i nostri amici tutti quelli che hanno magari poco da fare anche meno di me di venire perché è stupendo è un'emozione e poi ti senti anche onorato no è un onore proprio tra mie dietro di me qualcuno scherzi dice ecco la signora ha preso la carta io ho preso la carta già io oggi avendo vinto posso giocare tutte le gare del senior tour a differenza di altri che non cito quindi spero di riuscire a giocarne ancora qualcuna grazie a voi